ragazzi buongiorno non abbiamo più mg non abbiamo più dr abbiamo una fiat ragazzi una fiat 500 x 1.6 turbodiesel ragazzi cambio manuale quanti chilometri ha robin? 160.000 e ragazzi vi dico che questa macchina qua è anche toccata a qualcosina di per farla andare meglio per abbassare i consumi quindi col peda sprint vediamo di dargli ancora un po di più nei bassi giri e poi di consumare ancora qualcosina meno ma robin che dici ok dai ragazzi tanto la 500 x sapete com'è ormai è anni che in produzione il 1.6 però cammina forte il 1.6 se la sente bene se la sente bene ragazzi andiamo a fare un bel test drive coppie targhe nuove queste qui sono quelli ufficiali da qui da qui non si torna più indietro anzi si andrà sempre a migliorare eccola qua facciamo la stessa strada allora ragazzi lui è roberto della lancia y quindi è il secondo infatti l'ha promesso che ritornava ed è ritornato con la seconda che era 500 x qua andiamo a destra e tra un po' gli arriverà un'altra macchina nuova di pacca nuova 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 che è una ford puma ragazzi poi lo rivedremo a sinistra lo rivedremo ancora roberto grande robin me lo sblocchi il cellulare grazie eccoci qua queste quindi questa è la stessa strada che abbiamo fatto con la lancia y così vedrai la ricordo te la ricordi esatto così siamo the original siamo spenti te l'ho messa il comfort te le faccio provare dal più basso al più alto ora siamo in comfort ora siamo in comfort ragazzi eccola qua la macchina siamo in comfort lui è uno che viaggia veramente cambia subito marcia giusto così ragazzi così rimanete bassi di giri e ovviamente in paese non serve scannare perché non serve di terzi terza anche guarda anche anche quarta ragazzi dopo lui si può abbinare le opzioni qua le puoi abbinare tranquillamente col pedal sprint andiamo via dritto di là come abbiamo fatto l'altra volta così te lo spento metti la terza è micidiale sul diesel cioè una rampicata di accelerazione che è impressionante qui siamo in sport siamo in sport è un'altra cosa è un'altra cosa ragazzi adesso vi faccio fare la partenza qua dritto da fermo in sport ok adesso il pedale è subito bello sensibile pronto è subito sensibile così è spento è sentito si è abbassata tutto in serie aperta così è race race destra race ora madonna è incredibile ragazzi è incredibile uno finché non lo prova non puoi immaginare la sensazione che ha la guida è vero è vero e lo devi proprio protestare sulla tua macchina questa ragazzi è 1.6 120 cavalli destra 120 ovviamente il diesel avendo molto più coppia è molto più accentuata siamo ancora in race se vuoi te lo sposto in sport sei troppo sta facendo una faccia non lo riprendo ma sta facendo porca miseria qua andiamo a destra poi gli facciamo vedere tutte le altre funzioni è la la sema prossima tra l'altro la casa no 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 anzi adesso ti offro io il caffè ci fermiamo al bar ti offro io il caffè l'altra volta te l'offro io te l'offro io ho lasciato il portafoglio una volta c'è uno no vabbè che figura di merda ma va che piacere adesso gli offriamo il caffè poi facciamo la fine adesso qua andiamo a sinistra e poi Roby ti faccio vedere il pedal block che ti faccio attivare in giornata perché non è abbinato ma non è un problema quello lo facciamo fare subito dai ragazzi di celeste assistenza capillare ragazzi via cioè puoi sapere dovete mettere la seconda perché eri già troppo eh sì siamo sempre in eh siamo sempre in race adesso ti faccio fare la partita qua poi te lo spengo per farti notare quanta differenza c'è tra spento e race questo qua siamo ancora in race c'è si è spenta la macchina si è spenta sport tanto te sei già questo lo lasci qua così ragazzi una volta che avete l'impostazione giusta che vi interessa il telefono lo lasci lì e rimane così e noi siamo a posto adesso io e Roby ci fermiamo a bere un attimo un caffè ragazzi ci rivediamo al rientro e vi spieghiamo le ultime quattro cosine ragazzi a dopo oh ragazzi rieccoci dopo il caffè dopo il ginseng Roby un bel caffè molto buono molto buono infatti buonissimo anche il ginseng allora ragazzi Roby come vi ho detto è la seconda macchina che fa quindi lo aspettiamo con la Ford Puma ma cosa volevo dire ragazzi iscrivetevi sulla nuova pagina team Pedra Sprint di Instagram Roby mi ha detto che era il secondo scritto appena stata aperta la pagina qualche giorno fa sì qualche giorno fa quindi ragazzi iscrivetevi vi lascio il link in sovrappressione e anche in descrizione lì ci sarà il ragazzo di San Marino che ovviamente mi dà una mano Matteo è lui che segue la pagina lo ringraziamo di cuore Matteo e niente ragazzi iscrivetevi ovviamente al canale di YouTube Gerry Pedra Sprint tutti i social TikTok Facebook e Instagram Team Pedra Sprint Roby ciao grazie mille per avermi ancora scelto in giornata ti attivo il pedal block e siamo a posto e poi ci aspettiamo con la nuova Ford Puma più avanti grazie ciao ragazzi alla prossima ciao ciao